Intanto veloce veloce ne ringraziare i giornalisti che hanno accorto l'invito da parte nostra. Dico nostra perché ad Augusta è nata da poco due realtà che sono Augusta Vera e Orgoglio Augustano. Sono due liste civiche che andranno a confluire un interessamento regionale a Sicilia Vera. Con noi in una lista è capitanata da Nilo Settipani, ex consigliere comunale del comune di Augusta e dall'altra è Orgoglio Augustano e capitanata da me. Io sono il promotore della zona per quanto riguarda Sicilia Vera perché abbiamo scelto Cateno De Luca. La domanda si può rispondere da sola. Abbiamo scelto perché abbiamo voglia, ancora crediamo nella Sicilia, crediamo nella politica vera, nella politica combattente e pulita. Cateno ci ha dato ancora questa forza di credere e ci vogliamo credere per il territorio. per Augusta, per la provincia di Siracusa e la regione Sicilia. Cateno De Luca conosce bene le problematiche del territorio perché non fa politica da oggi, nasce consigliere comunale a 18 anni, diventa sindaco di più città, sindaco della città metropolitana di Messina dove ha portato una città all'essere e ci sta dando il piacere di mettere a disposizione la propria politica e il proprio tempo per far sì di governare la Sicilia e soprattutto di riuscire a fare valere lo statuto siciliano e per i siciliani. Io vi ringrazio e ci tengo a dire anche che la politica negli ultimi decenni è fatta di passaggi politici, nel senso che vent'anni fa il presidente si nasceva repubblicano e si finiva repubblicano, si nasceva giocatore della Juventus e si finiva juventino. Io negli ultimi anni ho cercato di approcciarmi di quella che è la politica dei combattenti, avevo prima aderito ai gilie arancioni ma visto che era un progetto che non andava da nessun posto, alle comunali ho aderito a una lista che faceva a capo a più aree, aree Udc, Forza Italia, centristi, riformisti, abbiamo fatto una bella lista, un bel risultato, abbiamo aderito a noi per Augusta, abbiamo deciso di appoggiare questa amministrazione che viene anche da un'area mista, di cui ringrazio il sindaco perché sta facendo bene per questa città, questo non vuol dire che noi prendendo quest'area ci siamo allontanati da un patto federale con noi per Augusta o non dialoghiamo più con il sindaco, le comunali sono fra quattro anni e ci vedranno pronti. Lascio la parola a Cateno e vi ringrazio a tutti. Grazie Marco, grazie anche a chi ci ha ospitato, grazie ai colleghi della stampa. Noi abbiamo iniziato questa crociata per liberare la Sicilia dalla banda bassotti politica, andiamo subito al tema che è quello che ci riguarda. Io ho amministrato più comuni, faccio politica da molto tempo, ho visto con grande ammirazione questi ragazzi che mi hanno consegnato qui una busta, che è la bustarella del loro destino, noi studenti, giusto l'associazione, con una serie di osservazioni e di valutazioni su quello che per esempio è il mondo della scuola. E li ringrazio intanto per questo loro impegno, poi io alla loro età, 15 anni, 16 anni, io ho iniziato un po' prima, avevo 12 anni, quando ho iniziato a seguire la politica, mi direte certo a casa tua si mangiava pane e politica, no a casa mia si mangiava pane e cipolle perché i miei genitori erano contadini, non c'entravano nulla con la politica. Mio padre è anche un modesto muratore, questo ho voluto precisare perché dobbiamo sfadare il mito che quelle che sono poi delle condizioni familiari condizionano poi le generazioni successive. in genere quelle si chiamano baronie, chi nasce magari professore universitario si crea le condizioni di regalare al figlio quando lo battezzano già la cattedra universitaria, quelle sono patologie, non riguardano invece altri tipi di evoluzione come è stato il mio caso. Porto avanti un'azione molto semplice, quella di essere amministratori e quella della politica del fare, se sono stato sindaco finora di tre comuni diversi ci sarà un motivo, se l'ho fatto senza l'appoggio dei partiti ci sarà un motivo, il motivo è molto semplice al di là di ciò che possono dire i nostri detrattori è che noi quando abbiamo messo piedi nei palazzi municipali li abbiamo organizzati, li abbiamo stravolti e li abbiamo lasciati sicuramente meglio di come li abbiamo ereditati, con una classe politica che mi ha sostituito perché io adoro formare e fare classe politica di nuovo conio, come dice qualcuno. E' stato così a Fiume di Nisi dove ci ritroviamo con un ragazzo di 35 anni che già ha fatto il sindaco 5 anni, a Santa Teresa di Riva dove ci troviamo un ragazzo di 36 anni che quando ho conosciuto era studente universitario al primo anno, organizzava feste in discoteca, di politica proprio non ne voleva sapere nulla. Poi è finito che da quel rapporto è diventato sindaco di Santa Teresa di Riva, ha preso il mio posto e poi mi ha fregato pure il posto a Parlamento Siciliano perché ha preso il mio posto a Parlamento Siciliano e questo per me è una grande soddisfazione, anche lui figlio di impiegati, non era sicuramente in quella che poteva essere. La politica ha blasonato a che attenzione, rispetto da questo punto di vista non ho mai sofferto dinanismo sociale, ognuno si porta dietro quello che è con grande orgoglio e ovviamente non può avere pregiudizi, io non accetto pregiudizi nei miei confronti e non ne coltivo nei confronti di nessuno, tant'è vero che la mia irriverenza e impertinenza ovviamente mi ha generato un po' di guai, io sono l'uomo dei 18 processi e due arresti e sono incensurato ovviamente. L'ultima assoluzione l'ho collazionata il 10 di gennaio scorso, assolto per non aver commesso il fatto dopo che sono stato arrestato per la seconda volta il 8 di novembre del 2017, dopo tre giorni della mia rielezione a Parlamento Siciliano. Questo sempre per ricordare la cronaca perché ovviamente si dice sempre De Luca è il pluripregiudicato, no De Luca è il pluriassolto, il concetto è un po' diverso. Processi di patrice politica, lo dicono gli atti, lo dico io, quindi oggi ancora di più avendo pagato sulla mia pelle, le ferite ci sono ma non mi sono mai piegato, cosa significa fare un certo tipo di politica in Sicilia, ne ho pagato le conseguenze, non mi sono mai arreso, anzi ho sempre rilanciato. Oggi si apre una fase che per quanto mi riguarda, attenzione, è il coronamento di un percorso. Non ho mai sognato di fare il ministro, non ho mai sognato di fare il parlamentare blasonato al di là dello stretto, amo questa terra e ho sempre sognato di avere la possibilità un giorno l'onore e l'onere di poterla governare. Sindaco di Sicilia significa questo, fare quello che finora è mancato in Sicilia, un presidente che amministra la Sicilia e non di farla amministrare ad altri. quindi a certe cupole che finora hanno fatto il bel e cattivo tempo. E' cambiato il presidente, il pupo, ma non sono cambiati i pupari in questa terra, sempre gli stessi, governa il centro, la destra, la sinistra, i pupari sono sempre quelli perché la guerra non se la fanno mai. La fanno fare a chi ancora crede al centro-sinistra, ancora crede al centro-destra, ancora crede, ecco, questo per loro è fondamentale perché gli consente di utilizzare questi finti scontri per i meccanismi elettorali del caso. Noi queste cose le conosciamo bene, anche perché abbiamo la nostra esperienza, siamo stati, abbiamo militato in partiti, non è che non abbiamo fatto. Io ho fondato Sicilia Vera nel 2007 e lì poi sono rimasto ancorato per arrivare a questo obiettivo. si sa che già mi hanno offerto di tutto e si sa anche che io ho rifiutato. Questo è un progetto che arriverà a fine in fondo, perché questa terra è ormai eccessivamente segnata da personaggi che si sono lanciati e poi hanno mangiato la mela del peccato. La poltrona, l'assessorato, la vicepresidenza della regione, tante cose hanno offerto. Non mi interessa, non campo di politica, campo di mio, perché la prima cosa che ho cercato di fare è di non essere schiavo della politica. Quindi mi sono potuto permettere di dimettermi due volte dal Parlamento siciliano, sono stato eletto tre volte con le mie forze. Mi sono potuto permettere di governare tre comunità diverse e di rilanciare, perché dove siamo stati abbiamo lasciato risultati straordinari. E' finita la mia gavetta sul territorio, ora è il momento di puntare a liberare questa terra dalla banda Bassotti politica. Questo è il tema. E allora noi oggi stiamo facendo un giro, vedete abbiamo acceso la nostra lanterna. Questa lanterna, questa lanterna io la utilizzo, è una lanterna magica. Non guardatela perché se no si rispecchia il vostro animo e vediamo tutti i vostri segreti. Non guardatela più di tanto. Questa ci serve per cercare gli uomini e le donne pronte a scendere in campo. Stiamo facendo un arruolamento a tutti gli effetti, l'esercito di liberazione. Siciliavera infatti apre oggi anche, in queste settimane, le sue iscrizioni perché abbiamo bisogno di sostegno. E quindi il sostegno per noi è iscriversi a Siciliavera, mettersi a disposizione e all'interno cercare le candidature, le migliori. Le migliori che possa esprimere il territorio. Cosa intendiamo per le migliori? Intanto precisiamo che per noi chi non ha il coraggio di dire che la mafia fa schifo non può stare con noi. Alla luce del sole guardate che è una scelta di vita la mia. Molto precisa, chiara e netta. Alla luce del sole. Questo ci tengo a precisarlo perché non daremo spazio a chi si vuole infiltrare nell'istituzione attraverso la politica. Non vogliamo soggetti che rappresentano delle lobby che giocano a ribasso in questa terra. Già ce ne sono troppe. E soprattutto vogliamo anche persone che, se hanno già un'esperienza amministrativa, lì preferiamo, perché no? Ma vogliamo anche persone che rappresentino il territorio. Infatti non si diventa candidato di Sicilia Vera così in modo semplice. Perché chi vuole candidarsi in Sicilia Vera, per la provincia di Siracusa per esempio, deve dimostrare di rappresentare un territorio. E quindi noi per la provincia di Siracusa, per esempio, abbiamo stabilito che chi si vuole candidare con noi deve essere sostenuto da almeno 750 elettori. Cosa significa sostenuto? Significa che ci sono almeno 750 elettori che si iscrivono a Sicilia Vera, che versano i 10 euro di iscrizione e che quindi sostengono un candidato. Non siamo alla ricerca, ovviamente, di candidature fine a se stesso. Questo ci tengo anche a precisarlo. Attraverso i candidati andremo a calare le nostre linee programmatiche per ogni territorio. Perché il nostro programma avrà due livelli. Quello di carattere generale, quello di carattere locale. Ed ecco che qui bisogna avere uomini e donne che conoscono il proprio territorio. Un esempio. Quando noi diciamo aboliamo, vogliamo abolire il pizzo legalizzato, che cosa significa pizzo legalizzato? Risposta. Se io per fare un lido balneare devo fare i viaggi della speranza a Palermo, devo mettere qualche 100 euro in qualche busta o mi devo rivolgere a sette deputati diversi per vedere a chi mi fa la cortesia, questo si chiama pizzo legalizzato. Ma questo lo potremmo poi trasferire come ragionamento alla risposta perché non si fanno investimenti in Sicilia. Non si fanno perché? Perché la burocrazia è a servizio della banda Bassotti e quindi bisogna pagare il pizzo. O in posti di lavoro, o in soldi, o in altro tipo di cose. Vorranno mai investire in Sicilia? Ebbè, diventa molto complicato. Come si libera da tutto questo? Ma io l'ho fatta a Messina. Io portavo avanti la mia esperienza. A Messina avevo 23 dirigenti generali. Ora sono sette. A Messina c'erano 20 dipartimenti. I dipartimenti lo sapete cosa sono? Io li ho chiamati, mi scusino le signore. Erano 20 pisciatoi. Perché non è altro che una delimitazione entro la quale ogni dirigente ha il suo comando. Li abbiamo accorpati ormai a sei. Tutto questo, ho fatto questo esempio perché? Perché la burocrazia si governa, non si subisce. Le norme che stabiliscono il rapporto equilibrato tra politica e burocrazia esistono. Bisogna avere però la competenza e la libertà e la capacità di applicarle. Sono il primo sindaco che ha licenziato i dirigenti in Italia. Ma non è che me ne vanto, anzi è tristezza pura. Perché significa che chi ha svolto questi ruoli non li ha saputi svolgere. Perché poi è facile dire il dirigente. Il dirigente cosa? Il dirigente gli indirizzi, gli stabilisce l'aggiunta. Il funzionamento degli uffici e dei servizi è di competenza esclusiva del sindaco e dell'aggiunta. Punto. Il resto è noia. Sono scuse. Ecco come funziona tanto per dare una battuta. Quindi primo esempio di un elemento programmatico. Bene, decentrare al territorio e ovviamente ridurre al minimo possibile la gestione. Perché la gestione deve essere del territorio. Io sono uno sturziano convinto. Infatti una definizione di Siciliavera è lega delle municipalità. Attenzione a questo termine. Perché solo così la Sicilia si può riappropriare della propria impronta di Stato nello Stato. Se invece andiamo a gestire la concessione demaniale piuttosto che altre minuzie importanti ma rispetto al nostro statuto e a quella che era onestamente la nostra missione mi sembra bassa cucina. Allora è logico che questa terra non volerà mai alto. Questo non ci sono discussioni. Un esempio più da territorio. Era trent'anni che non venivo a Brucoli. Sono stato nel 1991 esattamente. Mi piange il cuore vedere un territorio che in trent'anni purtroppo è peggiorato. Non sia adeguato a quelle che sono le norme elementari. Questo sarà un territorio sicuramente in infrazione. Perché se ancora la merda arriva lì, obiettivamente vuol dire che mancheranno i depuratori. Possibilmente. Eppure a Messina ne mancava qualcuno. Ma li abbiamo regolarizzati tutti in questi tre anni e mezzo. Anche noi abbiamo un problema stile Brucoli. Un finanziamento di 40 milioni di euro fermo da sette anni per il depuratore di tono. Ebbene, perché queste gestioni commissariali nessuno ha mai avuto il coraggio di puntare il dito? Perché? Signori, anche questo vedete, poi calandosi sul territorio si deve anche fare una valutazione di come viene gestito il territorio. Come le scelte che vanno fatte su quelle che devono essere o riqualificazioni green di quella che deve essere, se c'è ancora, se quella deve essere la missione, un'industrializzazione del nostro territorio dove cozza con quelle che sono le nostre vocazioni turistiche. Ocarno pesce, ma di eccellenza. Questo diventa poi il senso. Non si può pretendere di mischiare tutto e non essere niente. E quindi scelte coraggiosi, anche da questo punto di vista. Però scelte nette e investirci. Perché se io devo avere un lungomare con pisciatoio, nello stesso tempo devo avere a fianco strutture che inquinano e mi ritrovo, non investo lì, non investo lì a riqualificare e alla fine chi ne paga il prezzo? Il territorio. Ecco, la mancanza di coraggio in questa terra di fare delle scelte, non si possono accontentare tutti. Io per un periodo ho avuto la vigilanza rafforzata durante la mia amministrazione. Io c'è stato un periodo che stavo attento a chi mi portava il caffè, perché se no mi finiva come a pisciotta. E' ovvio. Togli i soldi a dirigenti, riduci là, fai blitz a destra, licenzi a manca. Ancora mi ricordo una cosa che non è una barzetta, racconto perché simboleggia poi come si affrontano certe cose. Beccai un custode che, io ho fatto un blitz, e l'ho beccato in una stanzetta che si vedeva alla televisione, per i fatti suoi. Aveva avuto la segnalazione che questa struttura entrava e usciva a chiunque. Aveva avuto la segnalazione che aveva l'alloggio del comune, senza titolo, e che al comune gli pagava pure l'Enel e l'acqua. Immaginate, a sto prezzo. Faccio il blitz, do becco, trasferisco, provvedimento di revoco ovviamente di queste cose. Questo fa una manifestazione eclatante. Sale sul tetto di questa struttura, una notte, e si voleva suicidare. Mi chiamano alle 5 di mattina i carabinieri. Io mi ero corrigato da qualche ora. Mi fa, signor sindaco, ero riuscito ad andare dopo una settimana a casa, a Fiume di Nisi, che non abito a Messina. Guardi, deve venire subito a Messina perché c'è questo che è amminacciato di buttarsi, di suicidarsi, perché vuole parlare con lei. Sì, come va a lasciarlo? Se non viene subito qua, si butta. Ah sì, gli dica da parte mia di buttarsi. Dice, va come? Gli dica da parte mia di buttarsi. Tanto, le dico una cosa, avendo conosciuto il personaggio, questo l'ha coraggio di buttarsi, non ce l'ha. E così è finita. Non si è buttato, non preoccupate. Sulla coscienza non c'ho nessuno. Ho voluto citare questo fatto solo per dare così un esempio di come poi o amministri o cambi mestiere. Questo è il tema. E siccome mestieranti della politica ce ne sono tanti, ma conoscitori della macchina amministrativa è pochi. E questo fa la differenza tra un politico e un amministratore. Non mi chiamate politico perché non lo sono, anzi il mio modo impertinente e riverente proprio non mi fa essere politico. Io sono un amministratore di professione, ho fatto il dirigente aziendale. Ho fondato un'organizzazione che oggi è presente in 78 province e 19 regioni con 8000 sportelli. E' ovvio che la mia cultura è di visione di dirigente aziendale. Questo l'ho voluto precisare. Ora voglio sottopormi alle domande della stampa. Perché giustamente dici ma questo che viene è un faugomizio? No, assolutamente. Sono venuto qua anche per dare la possibilità alla stampa di farmi tutte le domande che vogliono. Quindi ho voluto portare il mio saluto e quindi anche da questo punto di vista avere la possibilità di ringraziare gli organizzatori e Marco. Sono qui ora per dare la possibilità ai colleghi della stampa di fare tutte le domande che ritengono e ovviamente non mi sottrarrò a nessun tipo di domanda. Grazie intanto a tutti perché non mi aspettavo questa presenza, non era in conto, noi ancora siamo così per passaggi esplorativi e perché stiamo per ora individuando la nostra squadra che scenderà in campo. Tutto vostro. Volevo soltanto dire una propria... Lei ha a definirsi chiamarsi sindaco di Sicilia. Sì. Nella sua ultima amministrazione come sindaco invece ex sindaco di Messina che già aveva consolidato una certa autonomia amministrativa in città facendo le sue belle proteste molto colorite ed efficaci. Adesso come presidenza della regione la sua candidatura la vede una cosa in punto interrogativo oppure una cosa certa? Lascia una cosa certa che è l'ex sindaco di Messina per la presidenza della regione. risposta chiara io mi sono dimesso dal Parlamento siciliano per fare il sindaco di Messina senza avere un consigliere comunale perché ho avuto anche la fortuna che si verificò a Messina quando sono stato eletto sindaco il cosiddetto effetto strega. Cioè tutte le mie liste nessuna superò il 5% e io guardate mi sono dimesso da deputato per fare il sindaco sapendo che potevo essere sfiduciato in qualunque secondo. questo è il cateno di Luca quindi è inutile dirvi che accordi con me non se ne fanno troppo bello troppo comodo allora chi vuole oggi esprimere mi permetto di dire anche un termine forte un giudizio su cateno di Luca studi la sua storia perché studiando la sua storia ha la risposta. Già l'ho fatto e l'ho fatto senza reti perché è troppo comodo fare le rivoluzioni avendo la garanzia del risultato e come quello che vuole fare la rivoluzione seduto sul divano e dice vai avanti tu credino che a me viene da ridere famoso film di Lino Banfi. Perchè un Agustano dovrebbe votarlo? E' ovvio che me li faccio ma non perché vi devo da incensare lo dico nei risultati allora oggi i siciliani hanno bisogno di un amministratore chi c'è nel panorama politico che brilla cateno di Luca per la sua storia per i suoi risultati amministrativi ecco perché lo deve votare qua non è una questione di votare il messinese il parlamentare o il trapanese qua significa fare una scelta nei confronti di un uomo che per la sua impertinenza e riverenza ne ha pagato il prezzo personalmente e al di là di quello però ha amministrato perché il mio mestiere era amministrare i palazzi municipali che mi sono stati affidati non era fare convegni sulla mafia o l'antimafia per essere chiari. No sulla mia storia guardi la parola e il farò sulla la parola e il farò chiaro e allora ho fatto già perché finora non siamo stati concreti. Benissimo allora ho fatto già un esempio e andiamo avanti quando noi chiuderemo la nostra squadra apremo noi il programma solo per Augusto e quello per Priolo eccetera. E allora oggi è un momento di conoscenza poi c'era il momento del confronto perché noi perché vogliamo chiudere a più presto anche i nostri candidati? Perché faremo dei confronti nelle zone ovviamente più importanti di Augusto a rientro in questo dove andremo a fare la nostra radiografia perché guardate qua non è il tema conoscere o non conoscere basta e dare le soluzioni. Chi è che conosce i livelli che distinguono l'amministratore dal politico? Nessuno. E beh li spiego io così andiamo anche ad un'altra risposta. Ognuno di noi ha gli occhi, vede e esprime una reazione a ciò che vede, è bello, è brutto, mi piace o non mi piace. Primo livello di ragionamento. Secondo livello di ragionamento. Ti chiedo ma senta hai visto quella cosa è brutta? Mi spieghi perché è brutta? E tu mi dici è brutta per questo motivo. Cioè la capacità di motivare un ragionamento. Terza cosa, terzo livello. Magari l'espressione negativa non mi piace quella cosa. E allora io dico scusami ma tu hai un'alternativa? Sì o no? Allora l'alternativa è questa. Aspettate. L'alternativa fino a qua già ci siamo. Quarta cosa. Mi dimostri l'alternativa come attuabile? E qui comincia a distinguersi quello che è un politico da un amministratore. Perché fino al terzo livello ci siamo trovati con l'uno vale uno. O con sotto i capelli niente. Quando siamo passati a quarto livello, la dimostrazione di come si fanno le cose, questo significa e presuppone che sei un amministratore. Non è finita qui. Quinto livello. Monitoraggio se ciò che tu hai trovato come soluzione funziona meglio della ipotesi che hai scartato. Ecco questi sono i cinque canoni che io ho sempre utilizzato nella mia vita. Anche per amministrare. Quando avremo anche qui gli elementi per quanto riguarda la nostra squadra, partiremo esattamente da questa strategia. Che cosa significa? Significa che non c'è scritto da nessuna parte che la mano pubblica deve fare tutto, ma non c'è scritto neanche da nessuna parte che i privati devono gestire quelli che sono stati finora come in Sicilia, i servizi pubblici essenziali, quindi socializzando i costi e privatizzando i guadagni. Chi gestisce la spazzatura? Chi gestisce l'acqua? Chi gestisce il nostro vento e il sole? La risposta è chiara. I privati. Bene. Inizieremo noi da questa impostazione anche perché questa terra non può continuare ad essere da questo punto di vista strozzata esattamente per le scelte che ha fatto la politica su questi fronti. Ci troveremo nel dettaglio punto per punto e quindi a discutere anche di come l'industrializzazione oggi debba avere quella spinta di riconversione. come una struttura, come una parte del territorio come Brucoli non può continuare ad essere lasciato in quelle condizioni e ovviamente se ancora ci ritroviamo in queste condizioni vorrei capire la vera politica dove è stata. Mi sembra di capire che quindi ancora i candidati per le elezioni regionali al supporto della sua candidatura non sono stati scelti. Il 9 di aprile, ragazzi, scusatemi, il 9 di aprile, vi aggiungo, ci sarà la convention alle ciminiere. Il 50% già dei candidati sarà presentato alle ciminiere di Catania. Sabato ore 9.30. È ovvio che è pertinente la domanda, altrettanto la risposta. Qualcuno mi rimprovera che sono partito troppo presto. Lei giustamente dice ma già il partito non c'è la squadra. Sta arrivando, sta arrivando. Quindi questo non economico li abbiamo? No, no, no. Io oggi e dalle 6 di stamattina che sono a Siracusa e ovviamente abbiamo iniziato degli incontri. Finirò stanotte a Rosolini e sono incontri intanto finalizzati a confrontarmi con chi ci ha contattato già in queste settimane. C'è stato anche già un primo giro che ha fatto l'onorevole Danilo Loggiudici, responsabile organizzativo di Sicilia Vera. È stata a Siracusa la settimana scorsa e ovviamente ora stiamo andando alla selezione. La sua palestra continua la domanda. Augusta avrà un suo candidato? Guardate, oggi non vi posso dire sì. Quello che oggi ho riscontrato è che c'è una grande disponibilità e ovviamente oggi inizia un confronto anche con gli amici di Augusta. E questo lo voglio sottolineare. Ci sono potenzialmente le condizioni perché Augusta da quasi 40.000 abitanti in quello che lo scacchiere anche di un ragionamento di popolazione è una realtà che può esprimere un candidato. Non parliamo di fiume di Nisi, il mio comune di 1.000 abitanti, ovviamente. Quindi le condizioni ci sono. Oggi inizia il confronto con gli amici di Augusta e quindi sapremo già se rientreranno nei primi 50%, lo sapremo il 9 d'aprile o l'altro step perché chiuderemo quelle che sono la nostra prima lista che le liste probabilmente saranno due. La prima che è Sicilia Vera, la seconda che è De Luca, sindaco di Sicilia formato da vari movimenti e soprattutto anche pezzi importanti di altri partiti per i quali ormai, come avevamo messo in conto, si stanno spaccando e spappolando. Non candideremo deputati uscenti. Questo sappiatelo in nessuna provincia. Non solo qua. In nessuna provincia. Una scelta di campo per rinnovare la classe dirigente. Allora se Augusta avrà il suo candidato, è chiaro che Augusta ha anche un'amministrazione di un certo tipo. Questo candidato e questa amministrazione interagiranno oppure è un candidato che dovrà fare una strada completamente nel fatti suoi? Guardate, io non mi sono assolutamente occupato e preoccupato di come si chiama il sindaco e di che colore è, dove vado. Perché non mi interessa. Per un motivo molto semplice. Se è un sindaco... Sto parlando intanto del sindaco. Sto parlando di ora. E qual è il mio metodo? Io non mi pongo il problema chi è e di che colore è. Io mi pongo il problema se questo progetto può sposarlo o non può sposarlo. E se non può sposarlo non è che io possa da questo punto di vista dirgli qualcosa perché esiste già. Significa che qualcuno lo ha eletto, significa che qualcuno l'avrà proposto. Quindi da questo punto di vista non ci può essere un problema collegato a qualcosa che già esiste prima che noi ci lanciamo. Poi ci ritroviamo con realtà che o sono all'opposizione o sostengono un'amministrazione. Quindi non essendo un problema che mi riguarda in questo momento non mi pongo neanche la questione se viene candidato qualcuno che rappresenta tra virgolette per questioni locali alle quali io non sono interessato. Io voglio precisare una cosa. Noi non ci stiamo occupando di amministrative da nessuna parte tranne a Fiume di Nisi, a Santa Teresa di Riva e a Messina. Ci sarà un motivo? Sì. Perché il nostro progetto intanto sono le regionali. Dopo inizierà la fase di costruzione, di formazione del territorio. E quindi ci occuperemo dopo, nella fase successiva, le nostre dappe sono Messina, Fiume di Nisi, Santa Teresa, amministrative. Regionali a 6 di novembre, perché 6 di novembre dovrebbero essere elezioni. Politiche con movimento meridionalista che si sta mettendo in campo. Queste sono le nostre dappe. Quindi poi si va sul territorio. Infatti tanti amici che ci hanno chiesto di andare in questo momento in comuni dove si vota gli ho detto no. Tanti nostri sostenitori non hanno l'autorizzazione a spendere il nome di Sicilia Vera durante le amministrative perché Sicilia Vera non si occupa delle amministrative in questo momento. E' una fase successiva questa qui. Quindi vale anche qui. Io infatti non ho chiesto, quando c'è stato il contatto, se rappresentava la maggioranza opposizione. A me interessa che siano persone che hanno la libertà di potersi esprimere. Perché qua le mafie sono tante. Non è solo la Rupara. Le mafie in Sicilia sono poi gli avvertimenti, sono le intimidazioni della politica e di anche chi governa certi processi. Quindi io mi rendo conto che questa non è una scelta semplice. Quindi già chi è che ha il coraggio di metterci la faccia, onestamente, è il primo elemento che cominciamo a valutare. E poi abbiamo tutto il resto, ve lo abbiamo detto. La morte sematica che però porta avanti lei, che sembra uguale a quella della lega di San Pino. E' qua, scusate. Cos'è che mi accomuna? La tematica di rottura delle lobby, la tematica del linguaggio. Ma perché Salvini vuole rompere le lobby? Lo mi risulta veramente. Perché Salvini è il lobby lui. Scusatemi, ma forse... Quindi con la lega non avete punti di contatto? Ma guardi, Salvini, quando io sono stato arrestato, ha detto che, grazie alla sua lungimiranza, De Luca, che era quindi delinguente seriale, non era entrato nella lista della lega. Cosa non vera. Tant'è vero che poi è stato smentito dai fatti. Gli raccontò questa cosa, quella cosa inutile di Attaquil, di Catania. Quando sono stato arrestato, dopo un'ora esce il buon Salvini, in più conferenze stampa, e dice, meno male, che io avevo detto no alla candidatura di Catania De Luca nella nostra lista regionale. Dopodiché, che io sono il sogno proibito di... Salvini lo sa tutto il mondo. Chiaro? Ma ho detto a buon Salvini, dopo che è uscita anche la sentenza in riferimento a questa vicenda, che se vuole avere a che fare con me, prima devo dimostrare di essere un uomo, chiedermi scusa. E non perché è una questione personale. Perché è una questione di capire se si è uomini, o qua, qua, da qua. Questo è il concetto. Perché tutti possiamo sbagliare nell'esprimere un giudizio. Io per carità, ero nella lista di proscrizione, io ero nella lista degli impresentabili, io ero questo per i sotto capelli niente, 5 stelle. Tanti mi hanno chiesto scusa, devo dire, dopo, no? Ma lui non mi ha chiesto scusa. Quindi per me, un uomo che non ha l'umiltà di chiedere scusa se ha sbagliato, prima di essere politico, bisogna essere uomini. E mi fermò qui. Quindi non ci abbiamo niente da discutere. E con il Cile c'è qualcosa da discutere? Guardi, l'ho incontrato un mesetto fa. Io l'ho detto che io non sono interessato a fare il vicepresidente della regione. quindi credo che non ci sentiremo più, si sarà offeso. Invece ad Augusta una domanda aperta, io magari già l'ho detto, ma io sono arrivata leggermente, in questo momento quindi nasce il movimento di Cilevera d'Augusta con la visione di Bertoni e di quanti altri? rispondo solo perché noi sono l'organizzazione generale, poi voglio aggiungere qualcosa. Noi abbiamo aperto il tesseramento una settimana fa. Oggi abbiamo superato già i mille iscritti in Sicilia, l'obiettivo è 50.000 iscritti. Questo è il nostro obiettivo. Entro le elezioni regionali, 50.000 uomini e donne che hanno accolto il nostro invito e che quindi sono tesserati a tutti gli effetti. Questa è la prima fase. Seconda fase, si aprirà tra una settimana la piattaforma che consente la costituzione dei gruppi di liberazione formate da almeno 15 persone già tesserate. Tra un mese si aprirà l'ultima fase, quella della costituzione dei comitati che sono la rappresentanza nei comuni degli iscritti di Sicilia Vera. Qui si è aperta la fase di adesione. E ovviamente l'adesione sono aperta a tutte. Questo lo voglio anche precisare. Anche perché noi arriveremo a una fase congressuale già per scelta anche che abbiamo fatto nell'ultima assemblea entro agosto. Quindi entro agosto tireremo le conclusioni di quelle che sono state le presenze territorio per territorio. La costituzione dei comitati, la costituzione dei gruppi di liberazione e quelli esprimeranno definitivamente quella che è la nostra presenza in ogni comune. Oggi siamo contenti che si è partiti ad Augusta e si è partiti non vedendoci in uno studio anche perché io non accetto inviti privati. Sia chiaro. Allora chi intende incontrarmi privatamente sa che non lo può fare. Io prima di partire faccio la comunicazione alla Dicos dove vado per intenderci e gli incontri li faccio alla luce del sole anche perché di privato non so cosa ci dovremmo dire obiettivamente. Non è che stiamo vendendo noccioline quindi ci dobbiamo mettere d'accordo sul prezzo. Non stiamo vendendo niente quindi questo ci venga a precisarlo perché è ovvio che sono arrivate le richieste per incontrarci qua piuttosto che là ma abbiamo risposto chiaramente abbiamo delle tappe ufficiali e non si incontri ufficiali ben vengano se c'è paura di incontrarci così davanti a tutti e allora vuol dire che l'interlocutore ha qualche cosa di losco in testa anche da un punto di vista politico attenzione significa quindi non vogliamo da questo punto di vista perdere tempo e fa perdere tempo vuoi aggiungere qualcosa per fare i danni? Io voglio solo aggiungere che negli ultimi giorni stiamo ingassando la vicinanza di diversi candidati alle ultime elezioni di ex consiglieri comunali che vogliono fare questo percorso noi con questa avventura e questa cosa mi sta emozionando perché stiamo crescendo in una maniera profondata grazie anche al modo di fare politica di Catena che lo ringrazio che lo ringrazio ufficialmente che è venuto da Augusta ringrazio tutti voi e cosa? Assolutamente e niente siamo aperti a tutti piano piano stiamo lavorando come ho detto vi aspettiamo tutti il 9 aprile a Catania a questa convention per essere tutti insieme per fare vedere finalmente che la Sicilia è del popolo la Sicilia degli uomini onesti quelli veri è tutta insieme grazie a tutti vi aggiungo semplicemente questo comprendo che ci possa essere da questo punto di vista la giusta diffidenza e io al vostro posto sarei lo stesso attenzione diffidate da quello che vi ho detto io andate però a fare la ricerca sulla mia storia perché ormai quello che si è fatto è lì non si può cambiare quindi lasciate stare ora quello che vi ho detto e come ve l'ho detto andate a guardare la mia storia politica giudiziaria professionale troverete di tutto e di più fatevi lì il vostro convincimento però nel momento in cui dedicherete parte del vostro tempo a verificare chi è cadeno le ruga siate conseguenziali però non rimanete sul vostro divano mentre noi tentiamo di fare la rivoluzione scendete in campo pure voi grazie